Ciao da Apsim! Quanto costa in termini di stipendi lordi fare un punto in Serie A aggiornato alla sedicesima giornata? Avevo già fatto un video di questo tipo a inizio campionato, ma sono andato a modificare un pochino i parametri tenendo conto di una serie di aspetti e aggiungo anche un'altra classifica, oltre a quella delle squadre, anche quella degli allenatori. Quindi andiamo a scorporare intanto gli stipendi lordi degli allenatori da quelli dei giocatori e quindi riferiamo gli stipendi dei giocatori alle squadre e poi vediamo invece non tanto i punti ma la media punti a partita sempre limitatamente al campionato di Serie A, quindi escludendo le altre competizioni, degli allenatori attualmente in carica per il periodo in cui sono stati in carica e quindi escludiamo tutti gli esonerati e prendiamo in considerazione solo i sostituti in attesa della seconda ondata di esoneri di cui il primo potrebbe essere Pippo Inzaghi. Quindi vedremo un po' come va la situazione. Quindi facciamo evidentemente sulla base di questi dati poi tanti possibili ragionamenti, tante valutazioni perché si può parlare della bravura maggiore o minore di un certo allenatore, si può parlare anche di quello che servirebbe o che sarebbe sufficiente, necessario per fare determinati punti della serie. Non serve avere un allenatore così costoso per fare quei punti visto che quest'altro allenatore con meno soldi comunque ti ha fatto gli stessi punti o ti porta comunque ad un ritmo accettabile per gli obiettivi che devi raggiungere. E la stessa cosa possiamo dire per quanto riguarda il costo della rosa nel senso degli stipendi lordi. Naturalmente ci sono delle squadre che nella classifica del costo per punto non saranno mai al primo posto e sono proprio le big perché anche se fanno tre punti a partita sono sempre indietro perché hanno dei costi esorbitanti soprattutto rispetto alle ultime della classe, a chi sta in coda con gli stipendi più bassi. Per esempio il Lecce, il Frosinone, quelle saranno sempre in testa inevitabilmente pur facendo pochi punti ipoteticamente perché appunto hanno degli stipendi bassi. Allora diciamo che andiamo a dividere l'elenco delle 20 squadre per classi e allora nella classe alta, cioè dei club, delle squadre che hanno stipendi lordi più alti possiamo andare ad individuare però chi è che performa meglio, chi è che fa più punti chi è o meglio che diciamo è più efficiente e quindi le squadre per cui i punti costano di meno in termini di stipendi e chi invece è più costoso o troppo costoso per il rendimento che ha e quindi facciamo ragionamenti anche sulle dirigenze, sulle proprietà, su quanto si è speso e come evidentemente si è speso e quindi come ho già detto tra le righe ci sono delle squadre che costano comunque troppo al di là degli obiettivi che raggiungeranno rispetto al contesto e quindi hanno dei costi che sono in ogni caso eccessivi. E allora andiamo a vedere questa classifica aggiornata per quanto riguarda gli stipendi lordi delle squadre come dicevo ho scorporato, ho tolto il valore degli stipendi lordi degli allenatori le fonti sono varie principalmente Calcio e Finanza e Capology poi ho integrato con vari siti che non riportavano poi la fonte quindi soprattutto per quanto riguarda i nuovi allenatori quindi insomma Andrea Zoli al posto di Zanetti, Cioffi al posto di Sottilla più che altro questo principalmente le fonti sono quelle ma aggiungo anche che per quanto riguarda gli stipendi lordi dell'Allegrentus ho arbitrariamente tolto 11 milioni che è circa l'importo lordo dello stipendio di Pogba perché Pogba è vero che una parte dello stipendio l'ha percepita quest'anno ma non ha praticamente mai giocato adesso potrebbe essere definitiva comunque la situazione per quanto riguarda la... o meglio se si andrà verso questa squalifica in ogni caso non lo prendiamo in considerazione quindi anche per un discorso di onesta intellettuale, di equità non aveva senso aggiungere, diciamo, considerare questi milioni di Pogba Fagioli ovviamente ci sta perché è un altro discorso ma Pogba effettivamente non viene di fatto pagato in questo momento e quindi cominciamo con la classifica ricordo dopo 16 partite per tutti quanti la classifica delle squadre e quindi vediamo mettendo le squadre in ordine tramite la colonna verde quindi quella che ci dà proprio la classifica della classifica del Montengaggi quindi i milioni che servono per ciascun punto appunto mettiamo in testa chi è più efficiente e quindi la squadra più efficiente è il Frosinone vedete di fianco gli stipendi lordi però con un Frosinone che ha stipendi lordi ben al di sotto di 10 milioni ed è l'unica squadra che è al di sotto di 10 milioni è chiaro che il Frosinone tendenzialmente sarà sempre al primo posto però come dicevo possiamo ragionare anche per classi e quindi un Frosinone rispetto magari all'Empoli sta andando sicuramente meglio cioè 19 punti che sono 7 in più rispetto all'Empoli visti gli obiettivi dell'Empoli e del Frosinone l'efficienza del Frosinone al di là degli stipendi lordi decisamente più bassi è molto importante ma potrei fare paragonia anche con il Genoa oppure si può invertire il discorso e quindi dire caro Genoa ma che bisogno c'è di avere 35 milioni di stipendi lordi per fare 16 punti quando il Frosinone con 6-7 milioni te ne ha fatti già 19 questi sono i ragionamenti che possono fare e quindi si va a vedere appunto la classifica quanto costa appunto il singolo punto ma in realtà il discorso più clamoroso è quello della Salernitana perché all'ultimo posto non troviamo l'Allegrentus ma la Salernitana che è l'ultima in classifica eppure avendo un monte ingaggi stipendi lordi più o meno secondo me al di sotto della media non l'ho calcolata ma a occhio siamo forse al di sotto della media o al massimo nella media circa 30 milioni con soli 8 punti riesce ad essere la squadra dove i punti ciascun punto costa di più quasi 4 milioni appunto come potete ben vedere però poi troviamo l'Allegrentus e la Roma che sono due delle squadre con gli stipendi più alti perché in realtà e qui facciamo anche un ragionamento sull'Inter la squadra con il secondo il secondo monte ingaggi lordo più alto è l'Inter ma l'Inter non la troviamo assolutamente fanalino di coda l'efficienza dell'Inter è notevole da questo punto di vista così come se vogliamo ecco il Napoli potrebbe trovarsi in una posizione decisamente più comoda visto che ha parecchi milioni di monte ingaggi lordo in meno rispetto all'Inter però come punti ecco sta underperformando quindi o l'Inter sta overperformando oppure sta semplicemente dando giustizia a quello che è il suo monte ingaggi diversamente l'Allegrentus nonostante soli 4 punti in meno dell'Inter perché a livello di rapporto ci troviamo verso i 4 milioni e in fondo alla classifica ancora peggio la Roma che è il terzo monte ingaggi il Milan con il quarto monte ingaggi potrebbe fare meglio ma almeno ecco è fuori dalla dalla zona retrocessione e poi possiamo fare anche dei ragionamenti non so su ecco Fiorentina e Atalanta sono molto vicine per quanto riguarda l'efficienza mentre per esempio il Cagliari costa un po' troppo per i punti fatti finora e forse anche per gli obiettivi che si vogliono raggiungere ancora ancora peggio per quanto riguarda il Sassuolo in questo discorso a mio avviso anche il Torino costa troppo però almeno sta giustificando con una buona efficienza e così i ragionamenti di questo tipo si possono fare su tutti ma io direi che le squadre più virtuose da questo punto di vista secondo me sono tre in particolare e cioè il Frosinone il Bologna e il Monza non tanto il Lecce non perché non stia facendo bene perché ha anche un punto in più del Frosinone ma proprio per la differenza di stipendi rispetto al Frosinone il Bologna e il Monza invece per gli obiettivi perché il Bologna è quarto sta veramente cioè un punto per il Bologna costa meno di un milione e quindi poi parliamo degli allenatori che è qualcosa di clamoroso ci metto anche il Monza perché il Monza non dobbiamo dimenticare che se parliamo serenamente del Monza come una squadra di metà classifica è grazie anche a Palladino altrimenti il Monza non avrebbe nulla o non molto di più rispetto ad un Verona ad un Empoli quindi squadre che hanno meno punti o Ludinese che possono fare fatica a salvarsi mentre il Monza prima di metà campionato cioè girerà a fine girone girerà a metà campionato come minimo con 21 punti che in proiezione fanno 42 quindi salvezza tranquilla per cui io sottolineerei soprattutto le virtù quindi l'efficienza la bontà del progetto di queste tre squadre però se volete si possono fare oltre all'Inter se volete però si possono fare ragionamenti di qualunque tipo anche sulle altre squadre e su questo vi lascio lo spazio dei commenti e anche su Discord link in descrizione il mio server dove trovate tanti spazi per parlare di calcio prima di passare agli stipendi degli allenatori e quindi al rapporto con la loro media punti vi chiedo di mettere like se questo video intanto vi sta piacendo e di condividerlo perché sono dati che possono essere interessanti appunto per fare dibattito per sviluppare delle riflessioni ciascuno per la propria squadra o ciascuno per quello che ritiene essere più rilevante di sicuro non possiamo parlare assolutamente di efficienza per la Roma e per l'Allegrentus in realtà neanche per la Lazio ma per la Lazio il discorso è più dei punti perché se la Lazio avesse fatto qualche punto in più tutto sommato il Montengaggi sarebbe stato anche onorato stesso discorso per il Napoli e per la Fiorentina così come anche l'Atalanta mentre chi è proprio fuori scala l'Inter va a giustificare un minimo chi è proprio fuori scala sono secondo me la Roma e l'Allegrentus con degli stipendi che a prescindere sono ingiocabili passiamo come dicevo però agli allenatori e andiamo a vedere che l'allenatore più efficiente è D'Aversa e non di Francesco perché D'Aversa guadagna di meno e quindi vedete come tra l'altro qui ci si discosta rispetto alla classifica delle squadre ecco se vedete per esempio anche Pippinzaghi addirittura è tra i più virtuosi perché comunque con un solo milione lordo con un solo milione lordo pur con la media punti più bassa 0.63 riesce comunque ad avere ecco in questo caso è il rapporto insomma tra media punti e stipendio quindi non è esattamente quanto costa un punto ma diciamo quanto costa la media punti e quindi vediamo che il peggiore ovviamente è Murigno ma poi troviamo ma poi troviamo Allegri il peggiore è Murigno proprio per i punti perché in realtà ecco in realtà come stipendio lordo vedete Allegri è l'unico che supera anche i 10 milioni Simone Inzaghi è poco al di sotto però anche qui Inzaghi è il quart'ultimo diciamo così e quindi come efficienza comunque si salva con i punti con i punti con la media punti che sta tenendo di 2.56 che è ovviamente la più alta media punti che ripeto si riferisce all'allenatore e al campionato quindi per esempio la media punti di Inzaghi è quella da quando è subentrato alla Salernitana non c'entra nulla Paolo Sousa così come con Cioffi non c'entra nulla Sottil e con Andrea Zoli non c'entra nulla Zanetti e quindi vediamo ai primi posti comunque per efficienza rispetto alla media punti appunto Daversa anche Gilardino che comunque ha una media di un punto a partita che non è assolutamente male per una squadra che deve salvarsi stesso discorso Andrea Zoli anche se poi le loro squadre non hanno Andrea Zoli non ha un punto a partita l'Empoli proprio perché è subentrato e poi appunto comunque di Francesco Mazzarri in una situazione strana perché come allenatore del Napoli si ritrova tra gli allenatori meno pagati perché prende un milione Mazzarri prende un milione e quindi la classifica rispetto a quando c'era Garzia che prendeva tre milioni è chiaramente diversa però fin qui Mazzarri con un punto e mezzo dove va? Cioè un punto e mezzo è una media ovviamente troppo bassa per il Napoli che dovrebbe tendere a due punti a partita ecco così possiamo anche vedere un po' slegando dal discorso stipendi proprio la media punti di questi allenatori per cui sicuramente italiano può e deve fare meglio Juric sta andando invece benissimo perché un punto e mezzo quasi a partita per una squadra come il Torino e va alla grande anche pienamente giustificato in questo senso lo stipendio lordo ma se vogliamo chi sta veramente overperformando è anche Baroni perché con un milione e otto anche se a 0,69 di media punti che è basso che è basso però poi lo troviamo appunto anzi no stavo dicendo no è il contrario dovremmo trovare chi sta underperformando è soprattutto Baroni perché con uno stipendio pur con uno stipendio basso non riesce comunque ad avere ecco una media punti e un rapporto adeguato e accettabile dovrebbe invece Baroni con punti in più trovarsi decisamente più in alto e in questo senso negativo anche Ranieri nonostante abbiamo parlato bene del Cagliari ma più che altro perché comunque Ranieri con un milione e mezzo mi pare netto guadagna tanto guadagna tanto anzi qualcosa in più quindi guadagnando tanto è difficile per un Ranieri che fa anche meno di un punto a partita avere un rapporto in questo senso favorevole e accettabile sicuramente anche Pioli dovrebbe fare di più Sarri assolutamente dovrebbe poter fare potrebbe fare più diciamo che i rendimenti peggiori come allenatori per quello che costano sono a mio avviso Murigno Sarri Ranieri appunto in parte come sottolineiamo nella classe delle piccole sicuramente ci mettiamo in negativo Baroni e poi per quanto riguarda il resto poco da dire perché tutti e Mazzarri in questo momento anche se guadagna relativamente poco perché poi tutti gli altri sono diciamo giustificati dallo stipendio relativamente basso anche italiano potrebbe far meglio come dicevo relativamente basso ma anche dalle ambizioni che chiaramente non sono non sono eccelse in positivo invece sottolineiamo da Versa Girardino Andrea Zoli di Francesco e anche a mio avviso Palladino con ecco Pippin Zaghi che tra virgolette si salva ma non si salverà probabilmente la Salernitana con lui ma soltanto perché ha veramente uno degli stipendi più bassi della serie A questo è quanto ci sono tante altre riflessioni da poter fare è un video che vale fino a questo momento questa sedicesima giornata poi ci sarà la diciassettesima i punti cambieranno cambierà la media punti ma gli stipendi restano questi naturalmente mi riprometto e vi prometto di aggiornarci su questo aspetto con il passare delle giornate ma anche con il modificarsi sia degli allenatori e dei relativi stipendi sia delle rose perché con il mercato di gennaio ci sarà inevitabilmente qualche modifica anche al monte ingaggi per le varie squadre e quindi ci rivediamo non prima di febbraio per un aggiornamento del genere ma naturalmente fino a febbraio ci saranno tanti altri video per parlare di calcio e anche di dati e quindi continuate a seguirmi buon dibattito nei commenti e su discord like al video condividetelo e iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese e seguitemi pure su Avsim Out il mio secondo canale youtube ci vediamo molto presto e per il calcio senza compromessi sempre Allegri Out grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti